salve a tutti iniziamo finalmente i nostri video su sanremo a partire dalle conduttrici la prima puntata sarà affidata alla bravissima matilda de angelis la sua carriera in rampa di lancio l'abbiamo ammirata tutti durante the undoing la produzione è netflix dove addirittura recitava al fianco di mostri sagri di hollywood come you grant e nicole kidema e se l'è cavata benissimo tant'è vero appunto da meritarsi la partecipazione al festival di sanremo ma c'è di più perché lei oltre a essere una bravissima attrice anche la musica nel sangue infatti prima di intraprendere questo percorso cinematografico ha fatto appunto la cantante è stata anche la protagonista del video dei giornalisti felicità puntini puntini e quindi è meritevolmente sul parco dell'ariston sulla sua vita privata sappiamo che in passato è stata fidanzata col collega l'altro attore arcangeli ora non ne so molto sinceramente comunque non ha figli